buon lunedì democratici questo è il titolo della diretta della prima diretta della settimana oggi lunedì 22 maggio ore 10 47 do una breve occhiata ai giornali alle prime pagine di giornali sempre in vostra compagnia ciao a tutti buone buongiorno a tutti e buon lunedì vi ricordo prima cosa di seguire la pagina chi non l'avesse ancora fatto di seguire la pagina di condividere la diretta di commentare mettere un magari un pollicione o quello che vi pare e un bel commento un saluto cosa fondamentale condividere perché l'algoritmo cerca di condividere di fuori far condividere meno possibile in autonomia quindi o lo facciamo noi oppure non lo fa nessuno è molto semplice la cosa è molto semplice un attimo solo che recupero recupero recuperabile ok recupero recuperabile dovrei avere il telefonino qua che non lo trovavo eccoci qua perché ho paura sono collegato al telefonino per garantire una rete decente perché le reti in italia fanno veramente vomitare ciao tutti ciao francesco buongiorno davide grande rosaria simone di giovanni buongiorno anche a te inizio a vedere i primi collegati primi collegati allora abbiamo abbiamo doppia notiziona ovvero una notizia che riguarda il centro sinistra una notizia che riguarda il centro destra e entrambe notizie notizie abbastanza clamorose nel senso che da una parte abbiamo la meloni che va in mezzo al fango e quindi devo essere onesto mi ha stupito spero che non sia solo una passeggiata e una passeggiata pubblicitaria ma che sia una che sia veramente perdonate mi stanno chiamando e dico che non posso non posso ok spero che non sia solo una passeggiata alle pubblicitarie ma che sia in verità una una vera e propria presenza in riviera romagnoli in mezzo al fango per andare a tirare fuori dei miliardi quelli che servono per riparare le miglia romagna quelle miglia romagna danneggiata sì dal clima che è cambiato ma anche dal pd che dall'amministrazione regionale che in questi vent'anni poco ha fatto quindi io vedete io sono sempre la verità sta sempre in mezzo è vero il clima è cambiato queste piogge torrenziali sono sì sono un sintomo del pianeta che soffre ma sono anche questi di questi disastri sintomo di una manutenzione che non viene fatta di una manutenzione che da 20 o 30 anni non viene fatta nei letti dei fiumi e via dicendo quindi ciao a tutti e robbi ciao robbi ho visto un video che dicono che hanno aperto le paratie di una diga spero leggerai questo post ti voglio bene anch'io daniele ti voglio bene ho letto anch'io questa cosa ma prima di dar certe notizie io voglio essere voglio esserne certo al 100 per cento per evitare a di essere bloccato dai fact checker b per di fare una figura del merda si dice del merda quindi è meglio guardarci bene però ho visto anch'io questa notizia delle paratie di una diga ma sinceramente devo ancora appurare verificare bene che sia una notizia giusta andiamo alle pagine siete collegati non voglio perdere ulteriore tempo e farvi perdere ulteriore tempo andiamo alle pagine e io partirei subito dal chi dal il giornale oggi parto dal giornale va andiamo a leggere il giornale eccoci qua eccoci qua il giornale dicono vincono gli italiani alla faccia dei gufi dei gufi vincono gli italiani perdono gli eco sciacalli e meloni in emilia romagna accolta da cittadini e volontari a roma la folla contro i vandali di ultima generazione la premier il governo lavora le costruzioni io devo essere onesto sono uno degli fautori secondo me che hanno spinto la meloni a venire via prima della g7 di arrivare in romagna e darsi da fare perché le ho rotto le balle per tutta la settimana per tutti questi giorni ho rotto le balle dicendo meloni deve dimostrare meloni dimostri meloni la vogliamo vedere vogliamo i soldi emilia romagna siamo qua non faccia come i pd beh per ora si è presentata in mezzo alla gente con dei buoni propositi dicendo i soldi ci saranno li tireremo fuori io sto alla porta perché sappiate io non è io non dio perdona robbi giusti no nel senso che è una battuta è una battuta ovviamente non prendetela male però io non perdono nel senso che io voglio che vengano fatte le cose a favore dei cittadini e che le chiacchiere e vengono vengono cancellate le chiacchiere vengono cancellate dimenticate dai fatti reali quindi meloni vogliamo aver promesso se presentata ha fatto bene complimenti però vogliamo vedere i soldi vogliamo vedere i soldi e gli interventi reali magari meno soldati in guerra se non zero sarebbe meglio e più soldati sul territorio soldi e mezzi sul territorio e andiamo avanti andiamo avanti quindi abbiamo prima pagina del giornale la prima pagina mia della settimana dice alla faccia dei gufi vincono gli italiani perdono gli ecchi e sciacalli a roma una folla contro i vandali di generazione la premieri governo lavora la ricostruzione importante intanto a roma hanno fatto un altro disastro alla fontana di trevi devono vergognarsi devono vergognarsi siamo veramente intanto non so perché commenti non arrivano sono bloccati attendo voi e c'è l'algoritmo mi sa che mi stia bloccando e chissà perché misteriosamente misteriosamente andiamo a vedere intanto qua dicono bank mut nelle mani dei russi zeleschi ormai solo macerie vabbè il conflitto in ucraina è tanto di contanto ma i russi continuano ad avanzare e per ora è a retrocedere l'esercito ucraino andiamo a libero libero quelli dell'armata rossa censurano insultano poi frignano zittiscono un ministro e chi protesta dicono che contro la democrazia la ragazza salone del libro il pd ha fatto una figuraccia antidemocratica incredibile la line secondo me tra la figura di occhetto di ieri l'altro dove occhetto ha dato la colpa a dio delle a dio delle di quello che sta succedendo in romagna quello che è successo in romagna e la mella line non sa più dove prendere non sa più dove prendere e mi sa che inizia a pentirci di essere venuta via dalla dalla svizzera e adesso è venuta in italia a fare quello che sta facendo eccoci qua e chi vandali vanno arrestati obbligati a pagare i costi di restauro dice felice vita ti do ragione ti do ragione e quindi vedo i vostri commenti chi sostiene pd deve vergognarsi sempre felice vita guardate io sono un po d'accordo sono un po d'accordo sinceramente quindi libero da tutta la pagina a questa a questo fa questo attacco l'armata rossa della sleine e tre miliardi di danni si parla in emilia romagna e prometta aiuti la meloni esenzioni fiscali indennizi e servono soldi non tanto esenzioni fiscali ovvio c'è tutto distrutto ma servono soldini meloni meloni cortesemente un po di salvini di un po di soldini e però perché ho detto di salvini perché sotto c'è una tassa ideologica da eliminare via superbollo dalle auto salvini ha pronta la legge quindi sembra che voglia togliere il superbollo speriamo speriamo cambiamo pagina andiamo a vedere che dice fatto quotidiano dirà l'esatto contrario di tutto vediamo il fatto quotidiano che ce l'ha sempre con berusconi incredibile incredibile non cambiano veramente mai l'amico del boss ripresa sua insaputa boiardo ho tre foto di b con graviano le ho fatte io bravo 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 il fotografo bravo il fotografo violazione della privacy violazione della privacy no è una battuta e vabbè il tempo vediamo che dice il tempo meloni nel fango con gli sfollati emergenza emilia romagna buon inizio settimana anche te baldo perlotti ciao ennio angeli ci sono novità a proposito della diga che hanno aperto in emilia romagna durante un bifraggio devo andare a verificare la notizia il premier visita i territori colpiti dall'alluvione lontano dai riflettori il minimo è il minimo meloni 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 mi raccomando mantieni le promesse conforto a chi ha preso tutto mi sono commosso il governo è presente domani il consiglio dei ministri con gli aiuti subito fondi per i soccorsi poi indennizi ricostruzione speriamo al centro pagina chi lavora e chi sporca invece di aiutare nelle zone inondate imbrattano la fontana di trevi allora io qua mando un messaggino agli ecologisti no questi questi ecco questa ultima generazione si chiamano no cari fenomeni invece di imbrattare in europa e in italia i nostri monumenti questo messaggio ai fenomeni eco 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 supereroi perché non andate veramente nei paesi a fare i fenomeni nei paesi dove veramente inquinano perché non andate in cina non andate in india le emissioni d'europa sono l'otto per cento delle emissioni globali quindi noi in europa siamo bravissimi tra parentesi perché non andate in cina e in india a rompere i coglioni imbrattare la murale muraglia cinese se siete veramente dei supereroi dell'ecologia se siete supereroi dell'ecologia voi prendete i vostri culi partite prendete la macchinina poi dopo il treno poi l'aereo poi dopo andate in nave con quello che vi pare andate in cina imbrattate la muraglia cinese se siete fenomeni andate la fermare l'inquinamento che hanno che bruciano carbone come se non ci fosse un domani andate in india andate in cina fate a fare quello che fate qua da noi perché la fontana dei trevi che avete sporcato con liquido e tutto ci vorranno 300 mila litri d'acqua d'acqua per pulirla questo fa capire che voi di ecologia non capite niente e voi e voi di ecologia capitelo 0 per cento avete i cervelli limitati a livello ecologico perché se andate a imbrattare dei monumenti dove ci vogliono 300 mila litri di acqua per pulire poco capite di ecologia scusate il termine scusate sono molto schetto però hanno veramente rotto le scatole e bisognerebbe fargli una come dice maria teresa piarone un analisi bisognerebbe fare questi questi ecologisti un esame del cappello e del sangue per vedere se hanno meno assunto droghe se sono ecologisti o drogati io vorrei fare un esame anzi lo propongo propongo al ministero e alla polizia fategli un esame del sangue per capire se sono sotto effetto di stupefacenti sono proprio curioso di capirlo così questo è un piccolo un piccolo così un piccolo suggerimento cambiamo 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 andiamo giù sempre qua abbiamo perdonatemi che ho perso il mouse ho perso il mouse ogni tanto lo perdo eccoci qua il tempo andiamo a vedere sempre il tempo che c'è ancora qua è il fascismo degli antifascisti che cos'è intervista alla ministra roccella dopo l'aggressione al salone del libro ragazzi al salone del libro se vi rendete conto al salone del libro che hanno alla fiera del libro salone del libro io chiamo la fiera vabbè la fiera dell'est ok dove hanno fatto un'aggressione vera e propria non hanno fatto parlare al salone del libro la ministra della famiglia eugenia roccella che spiega usando la citazione di pasolini che si è arrivati al fascismo dalla fascismo all'antifascismo quindi veri fascisti sono gli antifascisti una cosa paradossale cambiamo quotidiano cambiamo quotidiano e vedere il resto del carino che dice vediamo un piano marshal per l'emilia romagna 8 miliardi di danni servono anni per rimettere in sesto il territorio case inagibili purtroppo infrastrutture distrutte migliaia di posti parliamo di migliaia di posti a rischio domani primo decreto alluvionati stop a tasse e scadenze la paura degli sfollati i bimbi evacuati ci hanno salvati con i camion dell'esercito abbiamo giorgio meloni qua in questa immagine e in questa immagine con gli cittivali in mezzo all'acqua e risposte immediate ha promesso risposte immediate capiremo intanto la gente romagnola che ha sempre votato pd ci è rimasta a mio parere piacevolmente sorpresa dell'intervento della meloni vedremo se questa passerella che ha fatto dicono lontana dai riflettori ma qualche fotografo con lei c'era quindi io poi vedo quel che vedo e vedremo se questa e questa non sarà semplicemente una passerella istituzionale o se diventerà un vero e proprio intervento importante del governo e speriamo io spero sinceramente continuerò a rompere le balle finché non vedrò il tempo meloni nel fango con gli sfollato questo l'abbiamo già letto scusate volevo andare alla verità andiamo alla verità chiudiamo con la verità e poi vi auguro un buono un'idea a tutti la verità anche la verità fa vedere la meloni sta a vedere che l'alluvione ora è colpa della meloni perché la premiera in emilia romagna l'attaccano tutti e dimenticano che il governatore bonaccini da otto anni è commissario al dissesto e vabbè la meloni fa vedere gli ambientalisti sono la vera rovina del paese lo dice vittorio sgarbi e assolutamente concordo e l'articolo scritto da federica novella pagina 5 ad andare a leggere sulla verità la sinistra sarà con gli aggressori attenzione dichiarazioni shock dopo la violenza al salone di torino al ministro roccella viene impedito di presentare un libro se lo merita ellish lane governo autoritario giusto contestarlo la gilene a mio parere si deve vergognare abbiamo giletti e la foto del mistero spunto un video così boiardo ha cercato di scatenare l'asta le relazioni di report e sul caso di giletti quindi giacomo amadori tratta l'argomento in modo sicuramente interessante curioso anche questo articolo e vabbè comunque l'articolo principale è ovviamente questo di direttore maurizio belpietro che parla della premier in emilia romagna dove l'attaccano tutti e si dimenticano però di bonaccini di bonaccini che di fatto è lui che ha fatto e non fatto in questi tanti anni di pd promesse da politici come dice daniele sgarbi lo capiremo lo capiremo speriamo che io chiudo così speriamo che non siano promesse da politici ma che sia veramente una svolta ovvero il primo ministro il presidente del consiglio che va in mezzo al fango dicendo adesso vi daremo i soldi ve li daremo e ripareremo rifaremo tutto non preoccupatevi i fondi ci sono li troveremo tutti ci aiuteranno io sto alla porta sto alla finestra sto comunque affacciato guardo mi do da fare se adesso faremo delle raccolte fondi anche noi faremo degli eventi in emilia per a sostegno della romagna ciò non toglie che aspettiamo che il governo intervenga seriamente capiremo con questo consiglio dei ministri per il decreto alluvionati cosa faranno detto questo buona giornata a tutti e stendiamo un velo pietoso su quello che sta facendo il partito democratico tra sostegno agli eco vandali che sono fenomeni in italia ma non riescono a fare i supereroi dell'ecologia andando in cina o in india perché se la fanno sotto ovviamente quindi è il pd soprattutto che non permette manco a un ministro della repubblica italiana di presentare di parlare alla presentazione di un libro ditemi voi se non è fascismo quello del partito democratico ciao a tutti buona giornata